buongiorno 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 e benvenuti di nuovo in diretta su fotografia professionale ciao a tutti ciao a tutti e buongiorno ennesima diretta su fotografia professionale ciao ragazzi come state come va come va come va la giornata ciao a tutti ciao Maurizio ciao Roberto ciao Marco come sempre ciao Gianluca buongiorno ciao Guido sempre presenti benissimo 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 allora allora che mi raccontate di bello come procede il l'inizio della della ripresa dovevo smantellare la camera oscura ok bene allora oggi ginocchio a terra e gas aperto o sono altre curve no sono altre curve altre curve fanno meno male queste dipende da come le usi ma fanno meno male sono anche tendenzialmente meno divertenti però insomma dai ci si può ci si può divertire lo stesso ciao Paola ciao Marco ciao Walter buongiorno Mario ok bene ragazzi allora per adesso direi che manteniamo le 15 visto i feedback che abbiamo avuto dalla prossima settimana incominciamo a avere delle dirette anche tecniche visto che tanti hanno chiesto di parlare di attrezzatura quindi incomincieremo a parlare di monitor e abbiamo sicuramente Luca Zaffanella di Eizo in diretta con noi incomincieremo a parlare di fotocamere di APS-C full frame medio formato e ho chiesto a Riccardo di Fuji di fare una diretta con noi per parlare un pochino di raw del medio formato e avremo delle cose interessanti ok sto provando il periodo di prova di Capture One bene ieri mi sono dato il giardinaggio ecco fantastico allora 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 oggi parliamo di Photoshop quindi tutto quello che vediamo oggi lo trovate tutto quello che vedete oggi lo trovate all'interno del video corso di Photoshop che le ragazze adesso vi postano e all'interno in generale di tutti i nostri corsi di post produzione trovate dei riferimenti alla gestione del colore con le curve ma prima o poi faremo anche uno Zot nuovo anche sugli Zot che sono disponibili e io ve lo dico sempre quindi le ragazze adesso vi postano il link per il corso di Photoshop e poi il link per gli Zot che sono disponibili per la consegna anche del cartaceo ok quindi le nostre schede dopo le guardiamo magari con più attenzione se non sapete cos'è uno Zot me lo chiedete e io ve lo spiego posso chiederti una dritta per un corso di social media manager sinceramente non conosco corsi di social media management tendenzialmente fa parte secondo me di un ambito decisamente più ampio che è quello del marketing online del marketing sui social che prevede secondo me tante tante cose dalla scrittura per i social alla conoscenza del marketing online e quindi sinceramente un corso specifico per social media management nel momento nel quale hai certe competenze lo puoi trovare credo abbastanza facilmente ma se mancano quelle competenze credo che vanno costruite io sono interessatissimo a Photoshop Sprizz a chi posso chiedere dopo la diretta allora se hai bisogno di informazioni chiedi a Federica se no compili il modulo online la Fedetti ha già messo la mail di Federica poi dopo magari rimettiamo anche la sales page per quello che riguarda la pagina nella quale potete acquistare l'iscrizione a Photoshop Sprizz oggi prima di iniziare ho una novità importante per voi ne abbiamo parlato nei giorni scorsi ci siamo preparati e siamo pronti e oggi partiamo con il lancio a tutti però come al solito cerchiamo di darvi un po' di anticipo non so se lo sapete ma da qualche anno ormai facciamo un evento dal vivo molto importante che si chiama Photography Pro Day è focalizzato sul guadagnare con la fotografia e con il fotoritocco, col videomaking quindi sono strategie per iniziare a trasformare questo lavoro da passione in professione al Photography Pro Day avete la possibilità di interloquire con ritoccatori fotografi, esperti di marketing, esperti di comunicazione esperti di gestione del business, di innovazione eccetera 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 tutte le volte che lanciamo un Pro Day la richiesta è sempre stata da tantissima gente ma perché non l'ho fatto in streaming perché io vengo dalla Svizzera, io vengo dalla Sicilia eccetera 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 bene quest'anno il Photography Pro Day per ovvi motivi non è stato possibile realizzarlo a primavera come l'abbiamo sempre fatto siamo ancora in attesa in realtà di sapere quando si potrà fare una versione in auditorium perché è un evento che raccoglie 300-400 persone quindi piuttosto importante in crescita ogni anno quindi già quest'anno rischiaviamo di andare al limite diciamo del numero di iscritti abbiamo già 200 iscritti al Photography Pro Day quindi diciamo che è un evento particolare molto molto importante bene da quest'anno e ve lo faccio vedere condividendo lo schermo da quest'anno il Pro Day è anche online quindi avete la possibilità da ora e le ragazze vi postano il link alla pagina avete la possibilità da ora di iscrivervi al Photography Pro Day 2020 online cosa succede? saranno il 30 e il 31 maggio, sabato e domenica abbiamo diviso le due giornate in modo da non tenervi 8 ore o 10 ore davanti a uno schermo ma dividendo le due giornate nel pomeriggio di sabato e nel pomeriggio di domenica abbiamo gli interventi dei relatori del Pro Day di quest'anno è un evento secondo me molto molto importante all'interno del panorama diciamo italiano è uno se non l'unico uno dei pochissimi eventi nei quali si parla effettivamente di approccio alla fotografia alla post-produzione e al video making per diventare dei professionisti e quello che facciamo rispetto ad altre situazioni non è tanto quello di chiedere a dei grandi fotografi di raccontarvi la loro vita e la loro esperienza professionale perché può servire a poco ma gli chiediamo proprio di condividere con voi le loro strategie quelle che gli hanno permesso di ottenere dei risultati e quelle che sono i migliori consigli che hanno da darvi per riuscire a ottenere dei risultati oggi ok? bene quello che succede adesso vi svelo tutti i relatori di quest'anno ok? del 30 e 31 siamo qua eccoli qua allora il primo relatore non in ordine di apparizione ma il primo che vi presenta è Marco Pinna Marco Pinna è foto editor e redattore di National Geographic Italia e credo che sia uno dei foto editor più importanti in questo momento in Italia e quindi una persona che vi può dare tantissimo dal punto di vista del capire come realizzare immagini e come presentarsi per convincere un foto editor a acquistare il vostro lavoro poi abbiamo Luca Pianigiani che l'anno scorso ha fatto un intervento fantastico e che ha fatto impazzire letteralmente tutti lo abbiamo di nuovo invitato perché quest'anno il tema è l'innovazione e nessuno meglio di Luca Pianigiani può parlare di innovazione all'interno del mondo della fotografia terzo relatore per me importantissimo è Fabio Timpanaro è uno dei migliori ritoccatori italiani è un direttore creativo è il direttore creativo di Storm è una delle agenzie italiane più importanti per quello che riguarda la produzione e la post produzione di immagini per la pubblicità Fabio è veramente un gran figo del mondo della post e vi potrà secondo me raccontare tante cose davvero interessanti e vi parlerà proprio di quelle che sono le nuove sfide del mercato la creatività e le possibilità all'interno del mondo della post è Megoyons, Marco Pinna ma anche gli altri ti assicuro e scendiamo andiamo verso il quarto che credo che ancora non no forse lo sapete già vabbè il quarto è Andrea Grassi è il mio socio è uno dei miei soci per quello che riguarda la fotografia professionale ma è soprattutto un performance coach per le aziende per le piccole e medie imprese secondo me abbondantemente il migliore in Italia e l'innovazione come fattore di differenziazione del fotografo e del ritoccatore al mercato di oggi tanta roba credo che l'intervento di Andrea dell'anno scorso sia stato in assoluto uno di quelli che ha lasciato più più valore all'interno proprio della giornata e ha dato gli spunti più interessanti quindi credo che sarà un altro intervento molto importante bene Francesca mi ricordo di te assolutamente e quindi sono contento che che si possa fare anche quest'anno Andrea è il quarto relatore quinta e abbiamo finalmente una donna è Dalida Ceccarelli è una filmmaker veramente fantastica lavora nel mondo della musica principalmente con i videoclip ed è davvero molto brava ha un canale youtube da 14.000 follower davvero molto molto brava l'ho vista anche parlare in pubblico e devo dire che tiene il polso del pubblico molto bene molto giovane ma assolutamente con tanto da raccontarvi su come ottenere successo nel mondo del videomaking in questo momento lei è filmmaker regista e fra l'altro collabora con tantissime aziende quindi davvero un intervento credo che sarà molto molto importante altro relatore e qua ho un po' di timore reverenziale nel senso che Gabriele Michalizzi credo e spero che lo conosciate tutti è un fotografo italiano un fotoreporter incredibile è stato uno dei fondatori di Cesura che è una delle agenzie indipendenti un collettivo in realtà fotografico di fotoreporter veramente veramente fantastico e ha vinto anche il Master of Photography la trasmissione tv con Olivero Toscani su Sky ma a parte questo è un professionista nel mondo della fotografia davvero incredibile e non so se l'avete mai sentito parlare anche uno che davvero ti tiene incollato alla sedia per per ore senza nessun problema ok ultimo relatore ma non ultimo Simone Poletti non so se lo conoscete è un ritoccatore è un formatore italiano nel mondo della post della fotografia e dello sviluppo eccetera 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 quindi 30 e 31 maggio sono sabato e domenica online quindi non dovete muovervi da casa siete tranquilli potete già da ora con il link che hanno messo le ragazze potete già da ora acquistare il vostro biglietto il prezzo del biglietto è l'abbiamo mantenuto assolutamente identico e il più basso possibile in questo momento potete iscrivervi soltanto alla versione online prima o poi riapriremo anche le iscrizioni alla live chi ha già acquistato il biglietto per l'edizione live ha diritto a partecipare alla edizione online totalmente gratuitamente e poi avrà la possibilità di accedere ovviamente con quel biglietto anche al live in auditorium ultima cosa si infatti l'ultimo è proprio una brutta persona ultima cosa vi ricordo rapidamente i relatori Marco Pinna fotografico di National Geographic Luca Pianigiani e l'editore di Jumper ma è un fenomeno assoluto Fabio Timpanaro ritoccatore direttore creativo di Storm Andrea Grassi di Equis performance coach per le aziende Dalila Cecarelli filmmaker regista Gabriele Michalizzi è uno degli dei della fotografia di reportage dei nuovi dei della fotografia di reportage italiana e Simone Poletti che sono io ok 30 e 31 maggio potete acquistare il biglietto già da subito si Gabriele il fotografo colpito da un RPG durante un reportage in Siria si salvato dalla like dicono ok bene questi sono i relatori del pro day di quest'anno e da adesso voi in anteprima voi che siete qua in diretta potete acquistare il biglietto poi quello che succederà è che lo diremo a tutti i posti non sono infiniti però diciamo che c'è posto si può si può fare ok quindi se volete è il momento diciamo per riservare la vostra poltrona virtuale in diretta per il pro day 2020 nella sua edizione online 30 e 31 maggio sabato e domenica al pomeriggio divideremo i relatori in modo da averli per entrambi i giorni e riempirvi un pomeriggio di devo dire un valore incredibile a livello di informazioni strategie e cose utili mettiamole così primo pomeriggio dalle 14 alle 18 abbiamo programmato magari sforremo di una mezz'ora ma credo che ne valga assolutamente la pena ok chi si iscrive poi riceverà tutte le informazioni il link per accedere avrete il vostro biglietto virtuale quindi avrete tutte le possibilità del caso date un'occhiata alla pagina magari fatelo lo ripassiamo alla fine della diretta così avete di nuovo il link ok rilincate il link che riportate lo chiede già Andrea così lo rimettiamo riceverete comunque tutti quanti una mail ecco te l'hanno già messo riceverete tutti quanti una mail guardateci anche nello spam perché così avete la possibilità di iscrivervi adesso ok bene bene questa è la grossa novità di oggi l'hanno appena postato Alberto sopra il tuo al tuo post ok poi lo rimettiamo benissimo ok ragazzi oggi parliamo invece abbiamo diciamo sfruttato un po' di tempo all'inizio per parlare di pro day ma credo che fosse molto importante chi è venuto ai pro day degli anni scorsi vi può dare un feedback immediato su quello che è la figagge nella giornata dell'evento e il livello delle strategie che vengono messe a disposizione stiamo parlando scordatevi il classico evento nel quale vi fanno vedere delle diapositive e vi parlano delle loro fotografie tendenzialmente è un evento estremamente più pratico si parla molto di più di quelle che sono davvero le strategie utili per ottenere dei risultati io e Andrea saremo credo estremamente taglienti da un certo punto di vista e quindi credo che sia una bella occasione da prendere al volo ok oltretutto in questo caso quest'anno la cosa surreale del pro day è che è sempre stato a un prezzo estremamente popolare però c'era che si doveva spostare da lontano e faceva un po' fatica doveva prendere degli aerei eccetera abbiamo avuto persone che sono venute da davvero da tutta Italia e da mezza Europa per il pro day Andrea dice i pro day sono spettacolari bene mi fa molto piacere e quindi quest'anno la possibilità di seguirlo online credo che vi tolga il problema della trasferta oltretutto in questo momento non si potrebbe proprio fare quindi abbiamo deciso di rilanciare come sempre quando cambiamo qualcosa di solito rilanciamo e cerchiamo di farla meglio quindi quest'anno lo facciamo sia online che live appena sarà possibile ok incominciamo incominciamo a parlare di curve di photoshop invece perché oggi l'argomento è gestione del colore in photoshop e gestione delle curve quindi incominciamo a parlare dell'argomento della giornata ok grazie Walter sempre carino grazie Walter allora incominciamo a parlare di curve di photoshop e incominciamo a capire come gestire le curve in photoshop come funzionano e cosa vi permettono di ottenere ok poi dopo torniamo magari dopo sugli eventi workshop il pro day eccetera eccetera però adesso vorrei iniziare a parlare di post perché oggi affrontiamo le curve allora nel momento nel quale io mi dovessi trovare a dover fare post su photoshop e incominciare a gestire il colore le curve sono un fattore piuttosto importante adesso io ho tre immagini incominciamo a lavorare su questa perché è un'immagine che ho già sviluppato in parte ma che ha sicuramente bisogno di altri interventi ok bene se non potessi seguire entrambi i giorni lo potrei rivedere dopo il pro day è tutto registrato e tutte le registrazioni integrali sono a disposizione di tutti quelli che acquistano il biglietto gratuitamente ok bene allora prima cosa dettaglio applico la nitidezza lo faccio in questo caso in maniera abbastanza rapida con un accento a passaggio ma giusto per perché oggi ci concentriamo su le curve ok bene questo accento a passaggio filtro altro accento a passaggio vado ad applicare va benissimo due pixel in questo caso vado a metterlo in luce soffusa o sovrappone andiamo a metterlo in luce soffusa e vediamo com'è potrebbe andare bene ok evito a questo punto in questo caso specifico tutta la parte ci sarebbe creiamo un gruppo solo per farlo vedere qua ci sarà la correzione dei difetti che non facciamo oggi perché ci occupiamo di altro quindi qui ci sarà la correzione dei difetti poi andiamo verso la correzione dei toni e la correzione cromatica oggi ci occupiamo principalmente della correzione cromatica per quello che riguarda le curve ok ok allora quindi avrò una parte di correzione tonale quindi di correzione dei toni che in questo caso in realtà non è particolarmente importante l'unica cosa che potrei fare come correzione dei toni sfruttando la curva è semplicemente una leggera schiarita che poi vado a mettere con una maschera completamente nera e con una radiale abbastanza veloce vado a mettere qui semplicemente sul viso ma giusto per dare una schiarita a lei senza fare degli aloni da lightroom o cose del genere ok dopodiché e questa può essere diciamo la parte delle curve che io vado a raggruppare nella correzione toni ok bene toni e chiaroscuro non diminutivo di Antonio sempre terribile questa foto non riesco a venirne a capo ma come è bellissima basta gestire un attimo un paio di cose e ci fai quello che vuoi con questa immagine allora uno dei problemi più grossi è appiattire il fondo però dopo lei è spettacolare lei ha una posa incredibile super grintosa e molto bella per me c'è tanta roba qui dentro va bene allora incominciamo a parlare di curve incominciamo a parlare di cromie sulle curve applico il primo livello di regolazione curve potete applicare un livello di regolazione curve in tanti modi in realtà potete anche unire tutto e fare una regolazione diretta ma ve lo sconsiglio ovviamente l'uso del livello di regolazione è sicuramente la cosa più utile e più funzionale ok nel momento nel quale andiamo a parlare delle curve per la correzione colore la prima curva io la vado a focalizzare diciamo su tutto quindi una correzione generale per andare a scaldare un po' e vediamo come funziona bravo Umberto che ha appena comprato il biglietto bravissimo e incominciamo a capire come funzionano le curve allora vi porto in mezzo il pannello anche se non amo particolarmente come sapete portare i pannelli in mezzo all'immagine non mi piace particolarmente però cerchiamo di capire come funzionano le curve allora da questa parte e lo vedete anche dalla linea sotto ho gli scuri dell'immagine e da questa parte ho i chiari dell'immagine ok quindi questa linea mi serve per capire nell'istogramma dove sto andando ad agire ok la seconda il secondo asse mi serve per capire quanto sto andando a schiarire se io prendo la parte centrale la vado a alzare fino al massimo ho portato al massimo dell'illuminazione i mezzi toni come faccio a capire dove mi muovo intanto prima di tutto torniamo un attimo alla parte base questo significa che qua ci sono le ombre se io prendo questo punto e lo alzo sto schiarendo le ombre se lo abbasso sto scurendo le ombre di solito sulle curve si agisce andando a mettere dei punti per poi spostarli ok è chiaro che se io vado ad agire sulle ombre in questo punto e vado ad alzare alzerò anche tutti i mezzi toni quindi è necessario poi mettere un altro punto abbassare in modo da agire soltanto sulle ombre in questo caso schiarito solo le ombre come potete notare è necessario fare delle regolazioni molto soft perché altrimenti l'immagine fa una brutta fine cioè va bene i neri aperti ma c'è un limite a tutto rischio di avere delle ombre troppo chiare quando voglio cancellare un punto lo seleziono e poi con backspace lo butto via ok brava Rita allora quindi gestendo da questa parte le luci e da questa parte le ombre qui ovviamente ho i mezzi toni posso andare a schiarire le luci scurire le luci schiarire le ombre scurire le ombre come faccio a schiarire scurire prendo il punto e per schiarire lo sposto verso l'alto vedi che la curva qua va da bianco a nero quindi per schiarire vado verso l'alto per scurire vado verso il basso in questo caso sto agendo solo sui colori diciamo luminosi idem per le ombre per schiarire vado verso l'alto per scurire vado verso il basso ok in questo momento avendo portato le ombre verso il basso le luci verso l'alto ho aumentato il contrasto tonale dell'immagine aumentando la differenza fra luce e ombre più la curva è inclinata e più forte è il contrasto tonale ok benissimo ora vediamo altre cose importanti delle curve in generale quando io vado a guardare la curva questo è l'istogramma questo è zero in rgb e questo è 255 in rgb qui in mezzo c'è 128 quindi diciamo la luminosità media il grigio medio ok allo stesso modo qui è zero e qui è 255 infatti il punto dei bianchi è a altezza 255 il punto dei neri è a zero e non può andare più basso di zero ma può essere alzato fino a 255 quando avrò sia i neri che i bianchi dell'immagine a 255 l'immagine sarà completamente bianca se prendo il punto dei bianchi e lo porto a zero l'immagine sarà completamente nera chiaro? così capiamo come funziona rapidamente il pannello delle curve quindi per alzare la luminosità metto un punto e anche con le frecce che è ancora meglio la scrivania vado su per abbassare la luminosità vado giù ok? in questo modo ho la possibilità di gestire i toni dell'immagine bene posso anche una volta che utilizzo le curve questo lo vediamo subito tenere premuto questo tasto perché così ho l'anteprima del lavoro che ho fatto il prima e dopo questo è annulla ok? quindi in questo modo io ho il prima e dopo e posso vedere quello che sto facendo perfetto riazzero tutto quindi resetto completamente le curve fino qua domande dubbia ansia e debolezze bana ok allora vado avanti la cosa importante che devo capire è per esempio come gestire matematicamente volendo anche certi punti mi spiego io so che ho i toni medi a 128 e quindi vado a identificare il punto 128 qui sotto ho input e output sono importanti da capire perché input è il punto sul quale sto agendo cioè voglio andare sul grigio medio 128 ok? in questo momento io sto agendo esattamente sul punto medio ok? l'output è il dove voglio portare il punto medio della mia immagine cioè io qui ho identificato i toni medi dell'immagine e gli dico che voglio portarli a 160 e questo schiarirà in maniera numerica portandoli a 160 i toni medi dell'immagine ok? quindi so esattamente dove vado eh allo stesso modo posso dirgli invece di portarli a 110 avrò dei toni leggermente più scuri questo lo posso fare con ogni colore identificato nell'immagine ok? con ogni tono e con ogni punto una volta che ho capito eh sul quale andare a lavorare automaticamente posso eh con il dato di input posso andare scusate posso andare a inserire un valore che mi permette di dargli un dato preciso ok? guarda eh Eric ti hanno già risposto eh in macchina se scatti in jpeg per me adobe rgb ma se scatti in raw non serve assolutamente a nulla bene quindi input e output che sono sempre un dubbio clamoroso per tutti eh servono proprio a questo cioè io sapendo che ho un punto di luminosità per esempio la luminosità 189 ok? in questo momento mi dice che è l'output 188 perché l'ho spostato cliccandoci sopra vado ad alzarla e definisco esattamente di quanto la sto modificando ok? bene torno a resettare tutto quindi input e output hanno questa funzione anche per quello che riguarda la gestione del colore perché io posso gestire le curve anche in rosso verde e blu ma ci arriviamo fra poco altra cosa che andiamo a vedere sulle curve importante è la gestione di questi cursori questi cursori non fanno altro che spostare l'input dell'immagine cioè io sto dicendo a ehm alla mia immagine a photoshop che il punto 12 cioè la luminosità 12 deve diventare nero zero quindi quando io sposto questo cursore gli sto dicendo che tutto quello che è prima diventi deve diventare nero questi sono pixel ok? l'istogramma non fa altro che rappresentare i pixel presenti nell'immagine quindi se io sposto questo cursore fino qua tutti questi pixel saranno diventati neri tutti i pixel fino a 50 di luminosità ok? allo stesso modo se sposto questo cursore tutti i pixel fino a 226 di luminosità sono diventati bianchi fra l'altro vedete in automatico l'anteprima spostandola questa linea di tutti i pixel che diventano neri ok? qui e qui bene questo mi può servire per chiudere immediatamente il contrasto dell'immagine e se ho un istogramma vediamo per esempio se abbiamo un istogramma un po' più aperto eccolo qua vado a fare una curva qui non ho fatto la nitidezza ma non vi preoccupate vado ad aggiungere una curva qui in realtà ho un istogramma super pieno perché ci sono dei bianchi completi ci sono dei neri completi io posso andare a chiudere ulteriormente i neri e a bruciare ulteriormente i bianchi ok? qua sicuramente non dovrei avere un istogramma che arriva fino in fondo infatti vedete che i bianchi non ci sono i neri sì posso quindi aumentare la percentuale di i neri quando vedo quest'anteprima vuol dire che in questo particolare punto i chan sono al massimo ok? è il funzionamento base della regolazione dei valori tonali sì le due righe sono il funzionamento base della regolazione dei valori tonali ok? bene torno sulla nostra immagine quindi io se voglio aumentare leggermente il contrasto dell'immagine posso o chiudere direttamente i neri sapendo che saranno neri completi e posso farlo arrivando alla primo punto dei neri arrivo al primo punto dei bianchi quindi ho aumentato leggermente il contrasto vado poi ad aumentare il contrasto tonale nell'immagine facendo una piccola s se io vado ad alzare le alte luci e abbassare le ombre a seconda dello spostamento dello scostamento che faccio posso modificare anche i mezzi toni posso invece scegliere di mantenere i mezzi toni a 128 ok? quindi metterli fissi e precisi e di output 128 in modo che non si spostino ok? quindi i mezzi toni non si sono spostati ho leggermente chiuso l'immagine e ho leggermente aperto invece le luci mi seguite? i valori i valori medi li gestisco sempre da un punto all'interno della curva bene fino qua stiamo parlando di tonalità nei chiaroscuri quindi questo è un generale nelle tonalità dei chiaroscuri posso invece anche andare a lavorare sul colore perché ho la possibilità non ho capito come lavora l'anteprima semplicemente tu hai un tasto qui che se tieni cliccato ti fa vedere com'era l'immagine prima dell'applicazione ok? questo resetta ma questo ti permette di vedere com'era l'immagine prima o dopo ok? è utile perché ho un'anteprima ci clicco sopra e tengo premuto bene altra cosa importante è questa io posso andare a identificare un punto dell'immagine con questo strumento poi dopo parliamo anche degli altri quindi se non so in che tonalità sono per esempio le gambe voglio schiarirle leggermente prendo questo strumento ci vado sopra vedete che mi mette il punto lui? ok? mi sta già mettendo il punto lui di sua iniziativa metto il punto alzo e schiarirò ovviamente tutti i toni che vanno in quella direzione ok? faccio z vado a cercare il punto qua per esempio che è già negli scuri e posso schiarire attenzione eh? a non esagerare perché succedono delle porcate quindi attenzione sempre regolazioni molto molto delicate e se possibile io eviterei delle regolazioni in cui ci sono più di tre punti nella curva ok? perché nel pannello sulla sinistra c'è sempre segnali di pericolo sull'istogramma questo non è un segnale di pericolo sull'istogramma questo è un tasto che calcola un'istogramma ottimizzata e più preciso non c'è è un è un tasto è una funzione non è un segnale di pericolo ok? in quale situazione è meglio usare la curva piuttosto che i valori tonali? secondo me il punto è con cosa ti trovi meglio e basta solo quello a livello di impostazione grafica spostando in alto i bianchi non rischi di bruciare appunto non avere più informazioni così non dai poi problemi per la stampa certo devo stare attento a quello che faccio ma non brucio fino a quando non arrivo qua qui sto bruciando le luci qui no qui sono molto lontano da bruciare le luci sono a 215 fino a quando non arrivo qui ho aperto leggermente i bianchi per avere alcuni piccoli punti di bianchi che sono questi ok e pochissima roba e posso stare anche leggermente più delicato quindi non sto bruciando gran parte dell'immagine fino a 245 ma anche 250 c'è comunque dettaglio anche in stampa bene quindi io già qua ho gestito una parte della luminanza dell'immagine vado adesso a ragionare sul colore quindi mi sposto nei rossi io una cosa che voglio è gestire in parte il colore dell'immagine allora vi spiego un attimo una logica che è importante i canali sui quali lavoro sono rosso verde e blu ok gli opposti di rosso verde e blu sono cian magenta e giallo il rosso è l'opposto è il colore complementare diciamo così del cian il verde è il colore complementare del magenta il blu è il colore complementare del giallo segnatevelo devi fare una piccola raccolta di zottele e porcatela non fare magari si ok quindi segnatevelo quando io voglio abbassare il cian o alzare il cian devo lavorare sul canale del rosso quando io voglio alzare o abbassare il magenta devo lavorare sul canale del verde quando io voglio alzare o abbassare il giallo devo lavorare sul canale del blu mi seguite quindi in questo caso specifico io voglio abbassare il cian perché la maglia mi sembra un po' verdastra e io voglio una foto più calda bene la maglia è verdastra principalmente nei mezzi toni e nelle luci quindi io posso andare a lavorare per alzare la presenza di rosso nelle luci se io vado ad alzare la presenza di rosso nelle luci guardate cosa succede il ciano sparisce vedete vado a vedere facciamo vedere come cosa succede ok il cian sparisce quindi alzando il rosso nelle luci io vado a togliere il cian dalle luci se ho del rosso anche nei mezzi toni alzo anche leggermente il punto dei mezzi toni se ho del cian in modo a toglierlo completamente altra cosa che posso fare è vedere se magari c'è troppo magenta c'è troppo rosso nelle ombre fare le ombre invece un pochino più azzurre in questo caso io le ombre le lascio stare metto un punto qui solo per fermarla perché se io lo tolgo questo punto il rischio è che questa curva prosegua invece metto un punto qui lo lascio fermo ok in modo che rimanga bloccata la curva e ho tolto con una regolazione abbastanza veloce ho tolto un po' di cian dall'immagine ok oltre a aver cambiato le tonalità mi seguite? bene adesso vado a lavorare sull'aumento dei gialli voglio un pochino più di giallo vado nei gialli vado nei blu e so che nei blu mi basterà abbassare i blu per avere una maggior presenza prendo 128 e metto 128 poi sarò io a abbassare questa presenza posso metterla a 118 e avrò un'immagine più gialla rispetto a prima mettiamola a 100 così si vede ancora di più così è troppo gialla ok così è troppo gialla però quello che è successo è questo se io vado a lavorare abbassando la presenza di blu avrò una maggiore presenza di giallo se voglio abbassare i gialli aumento i blu e tolgo i gialli non sta diventando blu l'immagine sta diventando violacea ok quindi vado a aumentare la presenza di giallo nella mia immagine quello che ho fatto con una sola curva è questo che è tanta roba sul mood dell'immagine ok semplicemente agendo su blu rosso e rgb composito facendo dei minimi spostamenti quindi le curve sono molto potenti da questo punto di vista e vi permettono tanta tanta roba ok dubbi ansia debolezze sempre e comunque ricordatevi gli opposti cian su rosso magenta sul verde giallo sul blu quindi quando io vado a agire sul verde per esempio anche se in questo caso non ne avrei bisogno se vado a abbassare il verde avrò una maggior presenza di rosso se vado ad alzare il verde avrò una minore presenza di rosso ok qua potrei abbassarlo leggermente in realtà per avere un'immagine ancora più calda e ancora più forte ok bene tutto chiaro fino qua bene ok allora questa è una curva che è la curva generale poi io posso andare a fare una curva che va a lavorare soltanto su una parte bisognerebbe tatuarci gli opposti di colore ci faremo uno zotto anche su quello però se ci pensate è intuitivo pensateci bene pensate alla ruota dei colori nella ruota dei colori il rosso è opposto a il verde acqua l'azzurro il cian nella ruota dei colori il verde è opposto al magenta il blu è opposto al giallo quindi pensate tenetevi sempre in testa la ruota dei colori bene ho fatto la mia prima curva e la mia prima curva lavora sul generale dell'immagine poi vado a fare una seconda curva in questo caso completamente nuova perché non voglio andare a agire su tutta l'immagine perché diventa veramente un casino in questo caso parto da scusate chiudo un attimo proprietà parto da una curva completamente nera e vado a tirar fuori l'incarnato in questa curva io di solito utilizzo tre livelli di regolazione curve uno per colore così posso regolare indipendentemente anche l'opacità si può essere una opzione interessante quindi una volta che ho fatto una regolazione poi vado a gestire anche l'opacità della singola della singola curva i colori complementari negli iddo ci sono certo che ci sono sì sì beh certo però non c'è diciamo spiegata in questo modo la curva quindi chissà un giorno ne facciamo una quindi rgb e cmik sono nello stesso ordine no il concetto è questo i colori dell'rgb sono opposti ai primari che fanno parte del ciamma genita giallo e nero quindi ragionando con i primari quindi ciano magenta e giallo che fanno parte di quella composizione escludendo il nero io posso andare a lavorare diciamo gestendoli in questo modo è più facile capirlo cioè io guardo questa immagine e dico questa immagine è troppo verde quindi devo andare a lavorare sulla presenza dei blu e dei cian per andarla a togliere ok si in generale ecco per esempio vero il pannello bilanciamento colore bravo Gianluca il pannello bilanciamento colore ha proprio quest'impostazione rosso ciano verde magenta giallo blu ok solo che qua è un po' diverso perché qua andare a gestire ombre luci e mezzi toni lo devo fare da qua sopra è un po' secondo me meno preciso per certe cose anche Tommaso ha fatto la stessa osservazione giusto quando preferire cura bilanciamento colore per esempio dipende da quanto vuoi fare un lavoro preciso e accurato e dipende come ti trovi a me piace bilanciamento colore per esempio perché è veloce però questo lavoro di solito lo faccio prima lo faccio tanto 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 in sviluppo ok ho la nuova curva in questa nuova curva io vado a estrarre da questa nuova curva le parti della pelle vi faccio vedere un trucchetto per avere le parti della pelle molto molto evidenti ok è molto semplice ok si vede ecco aver modificato quelle due curve mi dà la possibilità di avere di avere un'anteprima molto forte e molto veloce è un trucchetto da ritoccatore che non ha voglia di perdere tempo per capire dove ha fatto la maschera e dove no un trucchetto molto veloce in modo che io posso poi col mio pennello guardando la sinti che non il monitor cosa che ragazzi il problema dei monitor buoni è che vi provocano una dipendenza assoluta e quindi a me non viene più voglia di guardare niente che non sia sto monitor e finisce che uso la sinti come una tavoletta normale poi dopo se lo sa i miei soci che ovviamente contribuiscono al pagamento di questo oggetto dopo mi bastonano allora vado a fare rapidamente in questo modo a parte avere lei che è mentolata posso fare rapidamente lo scontorno non ho bisogno di fare uno scontorno particolarmente preciso perché il mio livello di correzioni sarà abbastanza veloce se ho bisogno di uno scontorno iper preciso lo vado a fare con un tracciato in questo caso invece mi basta grazie all'uso della sinti in questo caso della tavoletta un po' di mano allenata neanche tanto in realtà sono abbastanza una bestia in questo caso riesco rapidamente a farmi una maschera abbastanza precisa ripeto soprattutto perché non devo essere iper preciso non ne ho bisogno uso X per fare il passaggio da bianco a nero in modo da avere il controllo diciamo della apertura e chiusura della maschera cancellazione visualizzazione mettete come vi pare abbastanza veloce vado a fare questa cosa dopodiché mi riempio la mia maschera vado sulla maschera la controllo cosa fondamentale assolutamente fondamentale perché i buchi sono un dramma ok vado a fare la mia mascherilla ok stavolta la riempio a pennello perché non ho voglia di fare delle selezioni oppure ancora meglio non scende ok andiamo a riempire così con un lazzo velocissimo che tanto con la sintiq si riesce a fare e ok e ho riempito le mie due parti la stessa cosa la possiamo ottenere anche sul lab gestendo i colori sui canali a e b si è un po' diversa la gestione delle curve in lab magari gli dedicheremo del tempo non oggi però si è la stessa cosa ult leopardato però è simpatica si c'è il suo perché no c'è un modo per vedere la dominante dei colori nella foto per chi non ha l'occhio come il tuo allora vedere una dominante ragazzi c'è uno zoo ci sono due zoo dedicati a questo o tre vedere una dominante il modo più semplice è trovare un colore neutro e andare a analizzarlo se i colori rgb non sono pari c'è una dominante numericamente lo capisci molto facilmente per esempio andiamo a prendere se c'è qualcosa di grigio vogliamo vedere la dominante nel piatto vado a fare una selezione del piatto qua e vado a vedere sto colore allora c'è una dominante gialla ed è evidente anche da prima a e b mi dicono che c'è una forte dominante gialla l'rgb mi dice che è scostato ok in questo modo e quindi non è sicuramente neutro a e b in lab sono molto più chiari nel capire quale dominante hai ok torno alla maschera delle curve ho fatto la maschera delle curve yep adesso questa curva io la vado a resettare completamente ho la maschera vado a gestire l'incarnato quindi questo è pelle vado a gestire la pelle la posso gestire in tanti modi di solito schiarisco leggermente quindi vado ad alzare dando come input principale le ombre perché voglio una leggera luminosità in più qua quindi ho 49 gli diamo 53 forse anche troppo però no non è male ha preso sì ok mi sembra che abbia preso poca roba andiamo ad alzare un po' di più ok non esageriamo stiamo qua ok e ho alzato le ombre della mia pelle ok non esagerate mai perché sennò cambia tutto e diventa uno schifo ok bene posso anche recuperare leggerissimamente le altissime luci ok e quello che ho fatto è questo bene appena appena senza esagerare perché sennò uccidendo il contrasto si uccide anche un po' la saturazione vado poi a lavorare sul canale dei blu per andare a togliere un po' di blu e quindi a fare la pelle ancora un pelo più gialla ok non troppo facciamo 118 e andiamo a lavorare su sui rossi per aumentargli un pelo per avere meno ciano ok questo è il lavoro che ho fatto su questa curva ok ho schiarito troppo le ombre quindi vado nel composito qui prendo il mio punto e tiro un pochino giù ok bene mi seguite ancora? certo ci siete bene a questo punto io ho fatto in realtà la correzione della pelle già con le curve poi ho un grosso vantaggio a questo punto che ho già fatto una maschera quindi io posso aggiungere un altro livello di regolazione che può essere ancora un'altra curva per esempio andando a gestire la luminosità da una parte e il colore dell'altra non ho bisogno qua per esempio nei verdi posso andare a abbassare i verdi per avere ancora un po' di magente la pelle un po' più rosa un po' meno giallastra ok dopodiché vado a cliparlo col livello di sotto così sono sicuro che lavorerà solo sulla pelle ok potete fare una curva in clipping anche da qua c'è il tasto ma quelle cose orrende che fanno la pelle tutta uguale e opaca come fanno di solito sono filtri ok perché in lab ho solo due valori A e B ciano magenta e blu giallo mentre in RGB col bilanciamento colore ne ho 6 con l'aggiunta del rosso e del verde allora in realtà in lab hai una gestione del colore diversa perché in ogni canale ci sono due colori quindi di fatto ne hai 4 che vanno a lavorare in opposizione con i loro teorici con i loro teorici opposti ok e in lab hai una potenza della curva decisamente diversa quindi dei due continuo a preferire un po' lab ok bene quindi ho applicato una serie di regolazioni molto veloci bilanciamento colore lo possiamo chiudere con tre curvette e l'immagine è cambiata discretamente è cambiata come contrasto qua cromaticamente secondo me siamo già abbastanza vicini a meta ok se poi volete potete aggiungere altre cose potete aggiungere un'altra curva che va a schiarire di nuovo un'altra curva che va a schiarire di nuovo che vado a far lavorare di nuovo con una maschera soltanto sul viso una radiale e una volta che l'ho fatta lavorare soltanto sul viso vado a gestire le opzioni di fusione e la faccio lavorare soltanto sulle luci in modo che sia solo una schiarita che viene data alle luci del viso per portarla ai livelli del petto ok perché lei ha il petto più illuminato del viso ok dove trovate le immagini che mette a disposizione per esercitarsi nella zona dei link sotto i video del portale non le trovo allora non ci sono le immagini nelle dirette perché queste immagini sono tendenzialmente immagini che vengono messe a disposizione degli allievi di accademia ci sono le immagini per le esercitazioni in tutti i videocorsi tutti i videocorsi di post ci sono le immagini per le esercitazioni aggiungo un pezzo aggiungo un pezzo assolutamente per esempio voglio schiarire le gambe di lei bene ci metto sopra una curva sono ancora clippato la maschera metto sopra un'altra curva non valoritonali oh valoritonali ok la stessa cosa metto sopra un'altra curva che va a schiarire va a schiarire ma leggermente i mezzi toni e più che altro le ombre per andare a schiarire quella parte non voglio schiarire troppo le luci bene la metto in clipping così lavora solo sull'incarnato ma non voglio che lavori anche sopra e quindi vado a mettere una maschera nera nella parte superiore in modo che lavori solo sulle gambe non radiale ma lineare ok in questo modo ho una curva che va a schiarire solo le gambe eccetera eccetera allora se avessimo usato il color checker al momento dello scatto avremmo tolto le dominanti e risparmiato anche del tempo in post in questo caso io non amo il checker se non per il vestito ok quindi sarebbe servito per il vestito ecco cosa che vi invito a non fare a meno di rari casi con le curve ve lo faccio vedere allora non fate secondo me poi ognuno fa quello che gli pare non fate questo allora zeriamo sta curva non fate questo questo per i bianchi boom questo per i neri boom e questo per i neutri che è il peggio del peggio di tutti ok questa regolazione fatta con i tre cursori per me è una vaccata perché fate decidere a photoshop cosa vi piace fra l'altro in base al pixel su quale avete cliccato quindi evitatelo nei limiti del possibile c'è una cosa interessante in tutto questo un po' diversa mi spiego io posso fare questo decidere di che colore sono le luci apriamo i campioni scelio campioni guardate un po' ve lo spiegherò perché è un metodo che vi può aiutare anche per andare a copiare dei colori da un'immagine all'altra faccio doppio clic ok me l'hai preso vecchio mio me l'hai preso vecchio mio eccolo qua doppio clic mi esce una finestra di campionamento vado a campionare per esempio un giallino chiaro ok gli do ok lui mi chiede se lo voglio salvare come nuovo colore di destinazione dei predefiniti no vado a cliccare sulle luci e tutte le luci saranno di quel colore faccio la stessa cosa nei neri vado a fare doppio clic vado a campionare per esempio un blu scuro gli do ok gli dico sempre di no e vado nei neri a mettere questo blu scuro clicco in questo modo io ho detto all'immagine che colori devono avere i gialli le luci e che colori devono avere gli scuri ok però è una roba interessante che potrebbe essere utile per dare un gusto particolare all'immagine copiandolo da un'altra immagine ok in realtà questa gestione della copia dei colori è una roba che fanno in tanti perché è semplicemente una cosa che si fa in photoshop ok il clipping lega il livello a quello sotto giusto esatto torniamo su di lei che è più importante il clipping lega il livello a quello sotto questo livello si lega a questo sono tutti in clipping su di lui quindi agiscono solo sulla pelle perché questo è mascherato ok bene no il lavoro sulle ginocchia va fatto in maniera diversa il lavoro sulle ginocchia va fatto in maniera diversa non basta questo però potrebbe essere un buon punto di partenza usare il contagoccia e poi andare a modificare le curve no secondo me gli automatismi non sono un buon punto di partenza sono un ottimo modo per rovinare tutto e poi dopo vai a lavorare delle ore per correggerlo no lavora con un po' di consapevolezza che è meglio poi se hai bisogno in fretta e furia di stabilire il bianco e il nero di un'immagine lo puoi usare però tendenzialmente cioè io arrivo qua butto su una curva prendo il bianco questo deve essere bianco boom questo deve essere nero boom è una merda ma va bene per fare una roba veloce poi oh questo deve essere grigio che non è vero perché l'immagine questo non è grigio questo è quel colore lì quel colore un po' tendente al verde e ho ottenuto una regolazione automatica molto veloce però evitate di farlo consiglio personale bene ansie, domande, dubbi, debolezze sulle curve tutto quello la gestione delle curve in generale la trovate nel corso di photoshop sicuramente poi l'andremo a approfondire sicuramente con le nuove lezioni quindi le ragazze vi postano anche il corso di photoshop e gli zot nei quali trovate la gestione del colore trovate i complementari trovate i colori opposti trovate il tour che vi permette di capire la logica che c'è dietro perché il punto non è sapere come funzionano le curve questo lo trovate molto facilmente il punto è la logica che c'è dietro a questo ok? per arrivare rapidamente a un risultato di qualità non vi bastano le curve vi servono le curve le maschere il clipping la logica dei colori opposti e adiacenti eccetera 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 questa è un'immagine fatta tutta di adiacenti e che funziona perché c'è un contrasto tonale funziona perché c'è una posa che funziona funziona perché c'è una modella un vestito uno scatto che funziona ma funziona perché gli adiacenti gestiti bene a livello di saturazione vi danno un aspetto decisamente diverso se parliamo di banalmente di energia e di mood dell'immagine capite che cambia eh cioè l'aspetto è diverso ok? per correggere le dominanti è bene cambiare il metodo di diffusione no per correggere le dominanti ragazzi nel frattempo vi hanno postato gli izotel video corso completo di photoshop per correggere le dominanti ne abbiamo parlato se non sbaglio in una diretta per correggere le dominanti utilizzate le curve e andate a uniformare i colori ok? non cambiate metodo di diffusione delle curve uniformate i colori poi eh se volete evitare di modificare la luminosità potete mettere le curve in colore ma tendenzialmente l'importante è lavorare sui numeri domanda a un milione di dollari alt clic sul pulsante auto fa uscire una finestra di dialogo riesce a spiegarmelo? alt clic sul pulsante auto alt clic sul pulsante auto fa uscire una finestra di dialogo eh sono opzioni di correzione automatica quindi tu scegli che tipo di correzione automatica vuoi dare ok? sono le le opzioni che ti permettono di decidere gli algoritmi base che ti permettono di decidere cosa deve fare auto quando lo clicchi in modo che tu lo pre-imposti ok? yep gli zot sono comunque in aggiornamento gli zot per il momento no gli zot non sono in aggiornamento non so se dirvelo o no da quando gli zot sono diventano uno strumento fondamentale sulla mia scrivania la torta a strati me la metto sempre davanti agli occhi per avere un modus operandi da seguire allora ve lo dico poi dopo mi dite voi cosa ne pensate poi dopo parliamo un attimo di pro day yep torno a me allora visto che voi siete quelli in diretta siete quelli che è giusto che sappiano le cose prima degli altri allora vediamo quando ci vediamo in faccia allora vi piacciono gli zot? vi sono piaciuti gli zot fino adesso? sono utili? di solito tutti quanti mi dite che figata sono fantastici bellissimi eccetera eccetera è certo che lo dico visto che questo è il periodo delle news no ragazzi quindi è giusto così vi piacciono gli zot? sì c'è qualcuno che mette like dei cuori quindi diciamo di sì bene stiamo preparando gli zot per la fotografia ok stiamo preparando gli zot per la fotografia stamattina ho visto una lista di argomenti con il fotografo professionista che si sta occupando della redazione e poi dopo andiamo in produzione ok mettiamola così faremo come al solito una produzione limitata non partiamo immediatamente con mille copie ok ma partiamo con una tiratura sicuramente minore quindi li volete in anteprima cioè vi volete la possibilità di acquistarli in anteprima o aspettate quando saranno pronti perché se volete la possibilità di acquistarli in anteprima io vi preparo una pagina ve la metto a disposizione nella prossima settimana non adesso tanto comunque ci vorrà ancora un po' ci vuole diciamo che siamo pronti per la stampa per giugno ok per metà giugno spero ok allora se vanno da frenare se vi interessano e volete essere sicuri di avere la prima edizione noi nel giro di una due settimane dieci giorni vi prepariamo alla pagina per poterli acquistare li comprate in anteprima i primi che li avranno sarete voi ok se vi interessa ok va bene mi sembra che piacciono va bene ok dai se l'idea vi piace nel giro di di una settimana vi preparo la pagina così siete sicuri che ce li avete ok bene adesso devo solo tenere fermo il fotografo perché le sta preparando troppi sono tantissimi va bene quali saranno gli argomenti non ve lo dico adesso ve lo dico però diciamo che sono strutturati come gli zot di di post quindi ci saranno delle cose base proprio le focali come sfocare lo sfondo quindi saranno delle cose base ci saranno anche delle cose più particolari come tecniche speciali open flash seconda tendina la gestione del flash a slitta la gestione di flash da studio luci non luci eccetera eccetera quindi ci saranno tanti argomenti saranno tecnici comunque qualcuno sarà di impostazione ma prettamente tecniche e si va dalla gestione della macchina la gestione del flash a slitta fino a consigli per come scattare in una condizione o nell'altra non ve lo dico chi è l'autore però Alessia è uno dei due verranno forniti anche a quelli di Accademia no quelli di Accademia però li possono comprare no quelli di Accademia hanno già quelli di post non vi allargate adesso vediamo qualcosa qualcosa ve lo diamo ok bene è terribile un'idea nuova anch'io va bene allora ragazzi oggi abbiamo parlato di curve domani parliamo di un altro strumento importante che è correzione colore selettiva che è un altro strumento fantastico per la gestione del colore in photoshop magari parliamo anche di bilanciamento colore al volo che costo hanno gli zotti photoshop segui il link sulla pagina trovi tutto quello che ti interessa perché ci sono due versioni una solo in pdf e una pdf cartaceo hai fatto bene Luca a provarci provaci sempre tu fai bene così almeno mi fai ridere un po' quando saranno pronti magari un assaggio ve lo diamo però è Federica che non vuole è lei ma Simone Conti come sta non si vede più Simone Conti ragazzi vive a San Francisco Simone Conti vive a San Francisco lavora per un'azienda molto importante anzi a Palo Alto vive in questo momento lavora per un'azienda molto importante però vive là e fra l'altro è bloccatissimo ovviamente perché anche tutti gli Stati Uniti sono in lockdown compresa la California è sposato con una ragazza americana carinissima che si chiama Jennifer con un gatto un bellissimo norvegese di nome Lucifero detto Lucio e vive a Palo Alto ok questo per chi conosceva Simone Conti chi conosce Simone Conti che è uno dei soci fondatori di fotografia professionale bene ragazzi se non avete altri dubbi ci vediamo domani qui alle 15 parliamo di selettore colore vi ricordo una cosa importante da oggi potete accedere a voi per primi in assoluto potete comprare il biglietto per il photography pro day il photography pro day di quest'anno è anche online il 30 e il 31 maggio sabato e domenica abbiamo dei relatori clamorosi perché Gabriele Micalizzi Luca Pianigiani Marco Pinna che è il photo editor di National Geographic quindi tutti i paesaggisti aggredite Marco Pinna di domande e richieste e informazioni Dalila Ceccarelli che è una filmmaker fantastica Andrea Grassi che è il più grande esperto in Italia per la gestione del business per le piccole e medie imprese un ritoccatore che si chiama Simone Poletti un ritoccatore fantastico direttore creativo di Storm che è Fabio Timpanaro mi sono dimenticato qualcuno no mi sembra che sia abbastanza ok potete seguirlo tranquillamente la casa è un evento veramente veramente fantastico ok avete il link potete seguirlo per andare a prendere il vostro biglietto e prenotare il vostro posto yep direi che a livello di anteprime oggi ve ne abbiamo dato abbastanza avete non vedo il link per il pro day è fissato in alto e adesso le ragazze te lo ripostano ok così ce l'abbiamo comunque vi arriva anche la mail perché lo lanciamo e quindi arriverà anche la mail ok yep grazie mille per l'attenzione grazie per le domande per l'interazione sempre sempre molto utile per il seguito che comunque è data a queste dirette che per noi è davvero importante e da grande soddisfazione e grandi stimoli come vedete gli stimoli poi portano a creare cose nuove continuamente cose fighe quelle che ci chiedete e di solito quello che facciamo è ci chiedete una cosa e noi la facciamo ok aspetto gli zotti fotografia come una bimba aspetta a Natale fantastico ragazzi non vedo ancora il link vediamo vediamo però dovrebbe essere fissato in alto ok ragazzi grazie ancora grazie ancora grazie ancora grazie ancora grazie Federico grazie Paolo bene mi raccomando mettete in pratica tutto quello che vediamo durante le nostre giornate e ci vediamo molto presto cioè domani alle 15 qui puntuali anche sabato e domenica siamo in diretta quindi tenetevi un po' un po' di spazio vi hanno ripostato di nuovo il link per il pro day online ok grazie Mirko mi fa molto piacere a presto a domani ciao 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 Grazie a tutti